FIFA, sanzioni fisici estese a Mondiale, stopper Paratici. C'è un'ultima novità per quanto riguarda le indagini che interessano la Juventus. La FIFA, infatti, ha fatto sapere che le sanzioni infitte ai dirigenti italiani in ambito fisici saranno valide anche a livello internazionale. Una decisione che riguarda principalmente Fabio Paratici, attuale direttore generale del Tottenham, che verrà inevitabilmente squalificato Paratici, possibile addio al Tottenham a questo punto. L'ex bianconero sarà costretto a lasciare l'incarico con gli Spurs dopo essere stato condannato lo scorso gennaio a 30 mesi di inibizione nell'ambito del processo sul caso Plus Valenze. C'è da sottolineare che Paratici è in attesa dell'esito del ricorso che sarà esaminato il prossimo 19 aprile dal Collegio di Garanzia dello Sport dall'esito ormai scontato. Virgola